Vorrei vivere a Paperopoli, solo se i nipoti e una nonna che prepara la torta di mele. La dottoressa Grunewald mi ha fatto notare che ho vissuto da single solo un'esigua porzione della mia vita di adulta. Scusi, non c'è più piccola? Più piccola di così? So due. Allora, te ne dico qualcuno. Uomo? No, volatile. Ah, ma un uomo, sì. Ma tu lo sai quanti anni ha? Ventotto. Sembra una zoccola. Ma quella tocca. Vecchio barca! Paragonando il fallimento dei miei due matrimoni all'eclatante riuscita del secondo matrimonio dei miei due ex mariti, mi esporrei a un implicito, umiliante confronto con le loro attuali mogli. Mi passi l'acqua? Come? Si dice, acqua. Come si dice? Acqua. Acqua dove è acqua? Scusa. Che mi dici del sesso, Flavia? Che faccio sempre. Voglio un'altra chance. La sua terapia è finita, Flavia. Secondo un sondaggio, al primo posto cetrioli, carote, zucchine... Candele? Candele no. Ho provato. Si piegano. Non è? Questa all'inche. Non è?